qua io mi accorgo sovrappressione quindi sicuramente è un incendio all'interno che sta lavorando ho il tetto che è aperto, guardate la differenza non vedo niente, quindi io sono portato ad aprire la porta perché non ho nessun problema immaginiamo qua l'apertura della nostra porta ricordatevi che dentro c'è temperatura, pirolisi e aria che sta entrando quanto ci mette a fare la cannonata dipende da ricordate i due fenomeni del backdraft, accensione diretta o accensione tramite le bracci io potrei anche accenderlo con una fonte esterna vedete che questo qua adesso potrei accendere i fumi sicuramente vedete che stanno bruciando e qui escono ecco lì